Una selezione di 25 opere su tela e tavola che raccontano l'evoluzione pittorica dell'artista Vinicio Berti dagli anni 50 agli anni 90. È la rassegna Uno Sguardo verso il Futuro, inaugurata per celebrare il centenario della nascita dell'artista fiorentino nello spazio espositivo del Consiglio regionale della Toscana in Via De Pucci a Firenze fino al 3 marzo, con ingresso libero. Vinicio Berti, nato a Firenze nel 1921 e scomparso nel 1991, è stato un pittore ma anche un illustratore e fumettista tra i fondatori dell'astrattismo classico fiorentino. Credo che sia uno degli eventi di quest'anno a Firenze perché Berti è stato un grande artista che ha guardato appunto al futuro e i suoi dipinti sembrano realizzati oggi. Il suo valore più bello è la leggerezza, quella che indicava Calvino come valore per questo millennio. Ecco, nei suoi quarti c'è una grande forza ma anche una grande leggerezza. Sono davvero contento che il nostro spazio possa essere messo a disposizione di toscani illustri o di toscani che potranno fatto, potranno fare la storia della nostra regione. E spero che tante cittadine e tanti cittadini fiorentini, toscani ma anche tanti turisti possano venire a visitare questa mostra e a conoscere davvero un talento della nostra regione. La mostra avrà il seguente orario, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per l'accesso occorre il Green Pass rafforzato. Per l'accesso occorre il Green Pass.